ragazzi buongiorno solito orario perfetto per chi riposa 2 de pomeriggio quindi noi adesso gli spariamo la musica e facciamo un nuovo un nuovo brano questo è un brano che appartiene al mio cd che sto scrivendo chiaramente a quattro mani pure con la collaborazione di vincenzo dedicato a marcello e quindi già dopo il brano sulle note di califano la mia schiavitù è stato il primo poi il secondo abbiamo fatto don chac e marcello oggi facciamo sempre un remake degli anni 80 una canzone del 1983 di stefano johnson righi che poi insieme con l'altro stefano maicon rota componevano il gruppo dei righeira 1983 tra cui stefano johnson eppure juventino quindi a marcello farà piacere e quindi partiamo da un brano che spacco all'epoca per chi ha l'età mia insomma io avevo 17 18 anni nemmeno compiuti vamos alla playa che chiaramente dedicata a marcello e vamos con marcello vamos con marcello marcello doveva lui diceva in vacanza san benedetto il mare lui proprio non vedrà vamos con marcello vamos con marcello vamos con marcello vamos con marcello 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 dove andrà il 13 a bologna marcello 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 marcello